Ho visto filmati di cose incredibili. Oggi sono in un rito col questore, col perfetto, tutte le forze dell'ordine. Attenzione, chi sbaglia paga, non è possibile. Noi non è finita l'emergenza, bisogna continuare a tenere mascherine, distanze di sicurezza. Io so che è difficile ragazzi, parlo ragazzi perché ho visto i filmati su tutti i ragazzi e qua va fatto un punto. Attenzione che le forze dell'ordine arrivano, arriveranno a chiudere i locali. Quel bar del Piazza del Signore è già stato sanzionato a noi. Abbiamo inviato alla regione per opportuni provvedimenti tutta la documentazione. Ricordo, ricordo un'altra volta, chi sbaglia paga e può essere chiuso da 5 a 30 giorni. Io non sono contro gli eserciti commerciali, assolutamente, ma chi sbaglia paga. E' molto importante la salute di tutti noi. Grazie. Grazie.